mi hanno tanto chiesto in quest'anno perché in italia ovviamente è uscito cos'è la felicità non mi hanno fatto tante domande sulla felicità come io fossi diventato il guru della felicità tra le tante domande mi hanno chiesto secondo lei cos'è la grande felicità io non ho risposto io posso dire che se dovessi associare un termine alla parola felicità sarebbe più piccolo che grande nel senso che sarà banale però credo che la felicità si la possiamo trovare veramente in quelle piccole grandi cose quotidiane che ci sfilano accanto mentre siamo noi sempre la ricerca di questa grande felicità e il messaggio è proprio questo cercare di coltivare se stessi cercare di amarsi di più cercare di essere più egoisti nel senso positivo del termine perché si può essere felici solo incentrando le proprie giornate su se stessi su ciò che si è il cambiamento inteso come entrare lo intendo almeno io insomma come entrare in contatto con con se stessi con con cercare di coltivare spesso quello che quello che il noi fuori dal binario perché certe volte ci stradiamo appunto nelle strade in percorsi come sono i nostri non recitiamo dei ruoli invece la necessità è proprio quella di emanciparsi da questo di stracciare questi copioni di di recuperare il noi fuori dal binario che poi forse siamo il nostro vero essere nostro vero la nostra vera identità dicevo il cambiamento non è altro che secondo me cercare di mettere se stessi al centro della propria vita cercare di coltivare quel 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 noi che abbiamo smesso di coltivare per seguire una strada che non è la nostra io sono stato tanti anni avvocato non amavo il mio lavoro invece il rischio qual è che a un certo punto possiamo credere di essere quello che non siamo possiamo dimenticarci che il nostro vero io che il nostro la nostra vera identità mi ripeto è quella che che abbiamo messo in disparte secondo me questo è un passaggio che per fortuna però si può fare a 40 certo era spiegabile farlo a 40 ma lo si può fare anche 77 anni come ha fatto cesare sì io in realtà volevo non è un romanzo sulla vecchiaia è un romanzo che parla di vecchiaia che parla di solitudine che parla di relazioni di famiglia di violenza sulle donne ma sulle donne ma è un romanzo secondo me che parla soprattutto di cambiamento come ho detto prima il romanzo volevo parlare no di come sia necessario nella vita cercare di essere se stessi di seguire ciò che si è di essere più in contatto con se stessi con i propri desideri con il proprio io e quindi mi serviva un uomo pieno di rimpianti mi serviva un uomo che nel voltarsi indietro avesse una veduta ampia della sua vita insomma che avesse già vissuto gran parte della sua esistenza per questo è nato cesare 77 anni che poi in realtà è un personaggio di fantasia insomma non mi ha ispirato nessun vecchietto che conosco un po forse rappresenta un po quegli anziani che si incontrano nei condomini sul pianerottolo quelli un po o in ascensore quelli con lo sguardo ai piedi sempre appunto un po arroccati un po si costruiscono questo questa corazza questo scudo per per tenere un po in disparte il mondo